ingredienti per quattro persone per lo sformato di fiori di zucca 300 grammi di fiori di zucchina 100 grammi di panna fresca 50 grammi di parmigiano reggiano burro cubi sale e pepe un uovo per la maionese di pomodoro 200 grammi di pomodori datterini olio evo cubi preparazione per lo sformato di fiori di zucca mondate i fiori di zucchina saltateli due minuti in padella con una noce di burro metteteli in una ciotola aggiungete panna fresca sale e pepe e frullate con il mini pimer versate il composto in quattro stampini di alluminio e cuocete in forno a 150 per circa 30 minuti intanto preparate la maionese mettete i pomodorini nel frullatore e incorporate l'olio evo a filo fino a ottenere una salsa densa e cremosa aggiustate di sale versate la salsa a specchio sul piatto e rovesciatevi sopra il piccolo flan caldo servite